parlava della vita, i tralci, il seminatore e questo ci fa capire che effettivamente Gesù conoscesse bene il linguaggio dei contadini avere lo sguardo del contadino il contadino che fa? Semina il contadino pianta il contadino dopo aver fatto quello che doveva fare e lascia da terra il tutto certo, lui fa il suo dovere, ma poi cosa deve nutrire il contadino in sé? la speranza, la fiducia che la stagione vada bene che il tempo vada anche bene e che quello che è stato ambientato possa rifiorire e portare con i frutti ecco allora il tempo dell'avvento è un tempo di gestazione ci sono delle mamme in mezzo a voi, no? ci sono avete vissuto il periodo della gestazione quando portavate i vostri figli in greco? che tempo è stato quello lì? credo sicuramente di fiducia un tempo di attesa possiamo anche dire un tempo di prova un tempo di sofferenza un tempo in cui bisognava cercare di stare attenti e non far soffrire anche quella vita che c'era dentro con l'attesa, con la speranza che arrivasse finalmente quel giorno un giorno, se vogliamo, di sofferenza ma anche di grande gioia ecco l'avvento, carissimo questo è l'avvento e allora è un tempo di gestazione è un tempo in cui ciascuno deve sentirsi dentro questo regno di Dio perché Gesù c'era dentro il regno di Dio non è qualcosa che dobbiamo aspettare certo, arriverà l'ultimo giorno quando Gesù arriverà nella seconda sua venuta vegliate perché non sapete, nel giorno e nell'ora dobbiamo stare sempre in questa dimensione di attesa ma mai paurosa, ricordiamoci dobbiamo essere paurosi il Signore ci dice che dobbiamo vegliare lo stare attenti è quello stare attente della gestazione che si porta in sé qualcosa di prezioso quindi se il Signore ci dice di stare attenti è perché ha messo in ciascuno di noi qualcosa di prezioso la Madonna ci insegna e la Maestra è questo perché la prima parola, se vogliamo, del verbo è stata seminata in chi? in Maria Santissima e il verbo si è fatto carne in Maria e poi veda ad abitare in mezzo a noi ecco carissimi anche noi in piccola parte siamo chiamati a vivere questa se vogliamo questa gioia dell'almento ecco una gioia sapere che il Signore è Ciascuno di noi ha seminato la sua parola e allora questo dobbiamo fare questo ci richiama l'Evangelista Marco cioè state attenti vigilate, vegliate perché tre volte in questa pericola evangelica ci dice vegliate vegliate perché non sapete non sapete lavorano sotto il tempo quando il padrone di casa ritornerà non sapete se viene quando la sera non sapete se viene a mezzanotte non sapete se viene accanto del gallo e non sapete se arriva di mattina certo sono rari in cui e ci trova vulnerabili e un tempo è la notte per se ci dice vegliate quando è che si deve vegliare di giorno di giorno non c'è bisogno perché ci viene facile essere vigili attenti svegli è nella notte che noi siamo chiamati a vegliare e carissimi questa notte è la nostra notte la notte di ciascuno di noi quello che stiamo vivendo potremmo paragonare la nostra vita anche le nostre situazioni giornaliere a questa notte pensiamo alla notte dell'umanità intera questa notte purtroppo di questa pandemia dove purtroppo ecco ci avesse veramente questa pandemia ci ha catapultato in questo buio capiamo un bel poco di quello che sta succedendo purtroppo ed è un buio ed è proprio in questa notte dell'esistenza dell'umanità che noi dobbiamo crescere di vigilare vegliare stare attenti stare attenti a che cosa? a non lasciarci e prendere dal pessimismo dalla disperazione dal nervosismo da tutte quelle cose che purtroppo poi invece di migliorarci perché questo coronavirus è venuto per metterci alla prova ricordatevelo che questo non è che va fuori controllo non è che è qualcosa che Dio non stia teneremo sotto controllo eh l'ha permesso ed è qui che noi dobbiamo riflettere carissimi perché Dio ha permesso questa prova perché cosa ci vuole dire e tra me a me scraziosamente dico ma guarda questo Dio come si diverte sempre cosa è giocare con l'uomo non quasi come no un giocattolino che lo butta lì nel mondo coronavirus io dicevo tra me forse Dio fa giocare un po' l'uomo a fare lì il capo il padrone sì dice Dio il padrone sì impadroniscite di tutto impadroniscite del mondo dei mari del petrolio delle montagne della terra sì gioca a fare il padrone il capo e questo gioco a fare il padrone dove ci ha portati ad Amedeva il capo di Amedeva dove li ha condotti a coprirsi con la foglia di figo ha non dimesso la mascherina ci ha messo la mascherina cosa vuole dire voi che pensavate di poter essere e fare i padroni di tutto non siete padroni nemmeno di voi stessi che se non mettete una mascherina morite ma noi non cambiamo e mi ricordo questa esclamazione la moglie era di quel poliziotto che è morta per antimafia nell'attentato quando diceva ma loro non cambiano ve l'ho ricordata questa frase è buono mi pare proprio di sentire quella voce ma loro non cambiano siamo noi ma noi non cambiamo non ci basta niente per cambiare e allora carissime cosa significa stare attenti vigilare tornare a quelle cose importanti pensare che la vita non vale in base che non ci vuole Gesù ma se quello che vesti che mangi il titolo che hai la casa rossuosa la macchina di russo la macchina veloce non è questo che conta queste sono delle situazioni non lo trascorrete questo tempo in orge dissipazioni e tutte quelle cose della vita che vi fanno addormentare quindi vigilare significa stare attento e far sì che tutto ciò che ruota attorno a noi quel mondo che ruota attorno a noi non soffochi questo segno della parola di Dio e della nostra fede ricordate la parabola del seminatore si dice una parte caduta nelle spine e le spine hanno soffocato quel seme allora benissimo vediamoci alla Madonna e io raccomando a voi lo dico a me stesso è un tempo di preghiera guardate che da solito non arriveremo da nessuna parte non siamo così bravi a diventare santi da soli non saremo così bravi a somigliare alla Madonna da soli la Madonna pregava ed era la Madonna pensate a Gesù cosa ci insegna la scrittura che Gesù la sera recente il Vangelo sono andato oltre al Vangelo del giorno e cosa ho trovato scritto che Gesù addirittura durante le notti andava a dormire negli olivi negli oliveti vegliava tra la natura e se Gesù come Dio ha avuto bisogno di ritagliare questo momento di preghiera di intimità con Dio noi iniziamo per vivere senza preghiera per vivere senza questi momenti importanti e allora che l'avvento carissimi possa diventare per ciascuno di noi un tempo ecco di incontro con il Signore perché la preghiera non è dire tante preghiere non è dire tante parole ubriertare il Signore e la Madonna con i nostri vocalizi preghiera è innanzitutto incontro e se tu hai la fortuna e se già l'aiuta ringrazia il Signore ringrazia la Madonna ma se venendo non venga hai la fortuna di sentire ancora di più questo o no questo incontro dice Signore che bello non c'è cosa più bella che sentire questa vicinanza di Gesù e di Maria della nostra vita se tu hai questo hai tutto non avrai più paura di niente ci insegnano i Padri della Chiesa specialmente queste mattinate ecco nell'ufficio che legge l'ufficio delle letture vede che i Padri della Chiesa addirittura ecco paragonano questo tempo come il tempo ultimo cioè l'uomo in vista del regno di Dio e del paradiso e se noi carissimi noi aspiriamo al paradiso perché la Madonna non è più un talcio un virgine un talcio che a portare il paradiso in mezzo a noi a differenza di noi che portiamo l'inferno e ricordiamocelo questi giorni tornando a casa portiamo queste perle di paradiso con i mariti con le mogli con i figli se riusciamo ecco facciamo respirare quest'aria di paradiso perché la Madonna da questo vuole da noi comunque auguri buon cammino che la Madonna davvero aiuti ciascuno di noi a progredire sempre più in questa comunione stupenda con Maria e con Gesù qualche cosa più bella se tu è in questo per ciò si sono dute secondarie credo in un solo Dio a noi andiamo in un po' di gente per la nuova e la terra e la terra di tutte le cose che ci si no ne esiste credo in un solo Signore Gesù Cristo un ucciso figlio di Dio nato dal mare prima di tutti i centri via da Dio luce da luce il cometa del proie generato non creato nella stessa sostanza del mare per il vento del mondo che mi ha fatto la stessa che è reale per la nuova che nella vostra sabenza di scelta che è che la morte del tuo spirito stando con stanza nato nel centro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti perché l'aiuto di Dio sostenga i medici e gli infermieri e tutti coloro che con eroica dedizione si stanno impegnando a curare e assistere i bisognosi preghiamo grazie a tutti oh padre rimani con noi e sostienici perché da soli non possiamo fare nulla te lo chiediamo per Cristo nostro Signore grazie a tutti grazie a tutti noi portiamo insieme i doni frutto del nostro lavoro e mi presentiamo i doni io portiamo 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 i doni e concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi il penno della redenzione eterna. Per Cristo, nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. E veramente cosa vuole il giusto nostro dovere fonte di salvezza? Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio di potente ed eterno per Cristo, Signore nostro. Al suo primo avvento, nel comitare della condizione umana, Egli portò al condimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza, quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il Regno promesso, che ora ossiamo sperare, vigilanti dell'attesa. E noi, un tra gli angeli e gli arcangeli, e i troni e le dominazioni, e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante l'imno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore mio, me lo riva il suo, Santo, 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 il Signore Dio nell'universo. I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio colpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, tenesse grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risoluzione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il male della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ce ne si regni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo vivente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, i Presbiteri e i Diacoli. Ricordati del nostro Fratello Notrio che hai chiamato a te da questa vita e come per il Battesimo l'ha unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendi lo partecipi alla sua risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i detunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti ammi misericordia, donarci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, percibile il Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono vaditi. E in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. A te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, a vivere la città normale. Libera, Cio Signore, da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni, che con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turmamento, nell'attesa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che viverevi nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con voi, non datevi la mano, ma se potete ci terrei tanto, che ciascuno di noi si desse uno sguardo di pace, eh? Al piedo di Dio e noi, i peccati del mondo, mi seremovis, mi seremovis, a nielo di Dio e noi, mi seremovis, mi seremovis, a nielo di Dio e noi, tu che doi i peccati del mondo, l'ora non mi seremovis, l'ora non mi seremovis, l'ora non mi seremovis, l'ora non mi seremovis, allora per la comunione ci regoleremo così, ciascuno stia al proprio posto, se deve ricevere la comunione, stia in piedi, lo stesso nell'altra chiesetta, non venite qua perché verrò io lì al posto a distribuire la comunione. quando io zerò l'ostia e lo beate gli invitati, e poi, per non farvi dire quando vengo là, amen, lo diremo tutti insieme. Beate gli invitati alla cena del Signore, ecco l'anielo di Dio che d'ogli i peccati del mondo, il corpo di Cristo, amen. Grazie. 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 Lascia che il rumore parli di tutto, la mia famiglia e le figlie del mondo, la nostra chiesa risponda in Gesù, fai che sventa di pace di loro, tre amici santi, mamma d'amore, noi siamo tuoi, mamma d'amore, peccatori, da te aspettiamo la consolazione e insegnare a noi figli tuoi. Sei bellissima, mamma Maria, sei la luce a quegli anni di Dio, si dovesse che svegliere il sole, la tua luce non finita mai. Sei bellissima, mamma Maria, sei la luce in pezza di Dio, sei il rifugio dell'anima mia, il mio sogno di amore sei tu. Il mio sogno di amore sei tu. Il mio sogno di amore sei tu. Mi veniva da dire, lo esclavo, che bella canzone, il mio sogno di amore sei tu. A tormentarci così questa sera, no? E dirlo alla Madonna, no? Il mio sogno di amore sei tu. Diciamolo di nuovo, parlando. Il mio sogno di amore sei tu. Che bello, eh? Preghiamo la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita. Ci sostengo, Signore, nel nostro cammino e ci guida i beni eterni. Per Cristo, nostro Signore, amore. Il Signore sia con voi. Voi benedica, Dio divotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'aveste finita, nel nome del Signore, andate in pace. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio.